Sarà trasmessa in diretta da Telemax la cerimonia di riapertura e dedicazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Lanciano dopo 5 anni di lavori di restauro. Monumento nazionale dal 1902, la Chiesa di Santa Maria Maggiore è ritenuta una delle più importanti d'Abruzzo. La cerimonia inizia alle 18 con la consegna simbolica del cantiere all'Arcivescovo Emilio Cipollone. Ci sarà poi la benedizione di ogni sua parte partendo dall'ingresso arrivando al Lambone dove si legge la parola di Dio che nella forma ricorda la pietra rovesciata del sepolcro dopo la resurrezione di Gesù. Poi ci saranno l'unzione e dedicazione dell'altare, la benedizione della fonte battesimale e si partecipa all'Eucarestia. E nell'altare sarà custodita una reliquia di Santo Maso Apostolo. I lavori di restauro hanno riguardato la pavimentazione e il riscaldamento, gli intonaci, al Tg Max le spiegazioni dell'architetto Emanuela Kriber della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Quando abbiamo montato i conteggi abbiamo potuto prendere visione del fatto che l'intonaco c'era, era stato eliminato in una fase storica non troppo lontana e quindi dovendo prendere delle decisioni e fare delle scelte abbiamo ritenuto di dover ripristinare l'intonaco. Anche perché posso dirvi di aver visto con i miei occhi che molti dei laterizi che si vedevano a vista in realtà erano disegnati al di sopra di un'intonaco esistente. La scelta del colore, che peraltro deriva da almeno dieci prove, si avvicina un po' agli studi che abbiamo fatto. Penso alla bezzia di Casamari, a Fossa Nova, quindi siamo anche usciti un po' fuori regione per vedere in che modo sono state trattate le superfici di chiese che si attestano ad una fase storica simile a quella di Santa Maria Maggiore. Il pavimento è stato cambiato ma era una scelta assolutamente scontata in quanto è stato realizzato l'impianto di riscaldamento radiante a pavimento che è una scelta che nelle chiese adesso viene adottata molto spesso perché migliora le condizioni termoicrometriche oltre quelle di temperatura vicino al pavimento. Il pavimento degli anni 60, degli ultimi restauri, è stato rimosso. Si trattava di un clinker, quindi un pavimento che andava di moda, forse diciamo così, semplifichiamo in questo modo, era di tendenza forse negli anni 70, era stato inserito forse un po' di imitazione dei laterizi di pavimento, quindi un finto cotto, è stato rimosso, bisognava inserire una nuova pavimentazione e abbiamo ovviamente optato per la pietra. Alcuni dei colori che vediamo in realtà si vedevano già prima ma la chiesa non era abbastanza luminosa, quindi capiamo bene che la luminosità e il nuovo impianto illuminotecnico serve anche a valorizzare ciò che la chiesa già aveva ma non era visibile. Quindi sì, in alcuni archi notiamo l'azzurro, c'è un piccolo cielo stellato, c'è un rosone colorato sulla volta del presbiterio, di cui sono state ripristinate le colorazioni. Ma cosa più interessante, nella cappella laterale, non quella dove c'è il battistero, ma quella che accoglierà la croce di Nicola da Guardia Grele, abbiamo notato che c'erano degli affreschi e quindi i restauratori hanno rimosso l'intonaco, insomma adesso in fase di studio da parte anche dell'università, per capire di cosa si tratti.